Ormai è guerra aperta sul mega parcheggio di Colle Maggio tra la MP Parcheggi e il Comune dell'Aquila che gli ha revocato sostanzialmente la licenza. MP non ci sta a passare per Morosa e attacca. Avanzeremo delle richieste di pagamento per danni e per gli altri importi dovuti e non pagati dal Comune dell'Aquila. Ormai, dicevamo, è guerra aperta tra il Comune e l'MP. Nel giorno in cui l'assessore Mannetti ha tenuto una conferenza stampa, snocciolando i dati relativi ai crediti vantati dal Comune e la decisione di rescindere il contratto, arriva immediata la replica di MP. Non ci sta la società a passare per Morosa e annuncia, qualora il Comune dovesse proseguire nella scelta di rescindere il contratto per la gestione del mega parcheggio, di avdire le vie legali per recuperare le somme dovute. L'MP, in sostanza, cerca di smontare la ricostruzione data dal Comune dell'Aquila, precisando che le affermazioni provenienti dal Comune e contenute nel comunicato stampa non rispondono neanche al vero e ci si augura non appartengono realmente all'ente. La decisione, improvvide e legittima di recessione del contratto, spiega la società, è stata presa con sorpresa solo dagli organi di stampa. L'unico soggetto che può rivendicare un rilevante credito, invece, dicono, a titolo di risarcimento e per inadempimenti vari nel rapporto, è la mobilità e non certo il Comune. Quest'ultimo non solo ha beneficiato gli interventi di recupero ed estraordinaria manutenzione effettuati dall'MP nel parcheggio Natale a seguito del sisma del 2009, ma anche disatteso numerosi impegni ed obbligo di riattivazione della sosta a pagamento, senza provvedere ai doverosi indennizi e al riequilibrio del rapporto contrattuale, oltre alle diffide inviate all'ente, vi sono anche numerose richieste di rimborso delle corpose spese sostenute, precisa la società. La mobilità non solo resisterà con fermezza, ma avanzerà, dicono ancora, tutte le richieste di pagamento per danni e per gli altri importi dovuti e non pagati dal Comune, in ogni sede consentita, purtroppo con conseguenti negativi per la stessa comunità cittadina, che dovrà sopportare l'aumento della pressione tributaria, quale unico effetto delle determinazioni improbide dell'amministrazione comunale. La mobilità, per quanto la riguarda, ha effettuato ogni tentativo per evitarlo, ma ora non può far altro che richiedere l'intero dovuto, non potendo più subire rivendicazioni infondate da un'amministrazione, che evidentemente, concludo, non ha mai inteso tener fede alla parola data.